Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di uno strumento di intelligenza artificiale gratuito utilizzabile sia online e sia in locale direttamente sul nostro computer, in totale privacy. Secondo me questo strumento è passato un po' sotto traccia. Come potete vedere da qui gli possiamo dare una o più immagini di riferimento del viso di chiunque e lui lo inserirà immediatamente in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione. Chi mi segue sa bene che ho portato diversi strumenti che ci permettono di fare un facewap o di addestrare un'intelligenza artificiale per ottenere immagini coerenti. Però questo strumento ci permette di fare tutto ciò in modo immediato, senza addestrare nessuna AI, senza avere dei limiti nella generazione. Inoltre i risultati sono di altissima qualità e sono veramente fedeli all'immagine di riferimento. Guardate tutto il video perché vi spiegherò sia come utilizzarlo sul vostro PC sia come utilizzarlo online. Prima di passare al video vi chiedo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Eccoci qui sul sito, lo strumento si chiama Photomaker, trovate tutti i link in descrizione. Qui ad esempio hanno generato delle immagini realistiche, in questo caso inseriscono una sola immagine di riferimento, chiaramente ogni immagine viene associata a un prompt e questi qui sono i risultati. Come vedete in diversi contesti con una qualità altissima. Ci sono tanti stili, li vedremo tra poco. Questa ad esempio è per generare immagini in stile cartoon. Qui invece trovate tutto il necessario per chi vuole approfondire il funzionamento di questo strumento. Quindi come vedete questa è l'immagine di riferimento o le immagini di riferimento. Inseriamo un prompt e poi questi sono i risultati. In questo esempio invece viene utilizzata una foto vecchia, qui viene utilizzata un'immagine di un'opera d'arte e guardate poi come i risultati sono fedelissimi all'immagine di riferimento. Praticamente puoi anche ottenere cambiamenti di genere e di età. In questo caso l'immagine di riferimento è quella di Elon Musk. Inseriscono questo prompt e ci ritroviamo un Elon Musk da bambino. Mentre qui inseriscono queste immagini di riferimento e poi scrivono una donna con i capelli rossi. Vedete che praticamente il volto è identico. Un'altra funzionalità importante è questa, cioè il mix delle identità. Dobbiamo inserire due immagini di riferimento, vedete, di due persone completamente diverse. Inseriamo sempre il classico prompt e ci viene fuori una terza identità, quindi un terzo personaggio che è la fusione delle due immagini di riferimento. Vedete, Elon Musk, Trump e ci viene fuori un nuovo personaggio. Lo possiamo fare anche con un uomo e una donna o addirittura mischiare un pochino gli stili. Anche qui, per chi vuole approfondire, trovate tutto il necessario. Ora vediamo come utilizzare questo strumento. Come vi ho detto prima, possiamo utilizzarlo sia in locale, sul nostro pc, sia online. Ora mi trovo sulla pagina ufficiale di GitHub. Per chi è più esperto può seguire questi passaggi ed effettuare un'installazione, tra virgolette, manuale, quindi scaricando ed installando il modello sul proprio computer. Io invece vi mostro come installarlo con Pinocchio. Cosa importante da sapere, questi sono i requisiti minimi per utilizzarlo in locale. Quindi se non avete un pc abbastanza potente, difficilmente riuscirete ad utilizzarlo in questo modo. Però tranquilli, perché potete comunque utilizzarlo online. Andate su Pinocchio e scaricate i file per il vostro sistema operativo. Una volta installato, dovete aprire Pinocchio. Andate in Discover. Qui andate a cercare Photomaker. Ragazzi, se avete problemi con l'installazione di Pinocchio, vi ricordo che ho fatto un video dedicato per risolvere gli errori. Vi lascio il link in descrizione. Ecco Photomaker. Lo aprite, lo scaricate e fate partire l'installazione. Come vedete ci vuole un po' di tempo, perché ci sono un po' di componenti da scaricare ed installare. Una volta finito, ve lo ritrovate qui. Lo avviate. Cliccate su Start. Vi darà questo link. Ci cliccate. Si aprirà questa interfaccia. Questa è l'interfaccia di Photomaker. In questo modo lo state utilizzando in locale sul vostro computer. Ok, adesso torno sulla pagina di prima e vi mostro dove trovare il link per utilizzarlo online. Come vedete siamo di nuovo sulla pagina di GitHub. Scorrete la pagina e troverete il link qui. Quindi vi basta cliccare su questo link. Vedete che si apre la stessa interfaccia, però in questo modo lo state utilizzando online tramite Hugging Face. Le funzionalità sono le stesse, però è chiaro che se qui ci sono molte persone collegate, potreste riscontrare dei rallentamenti nella generazione delle immagini. Inoltre, utilizzandolo con Pinocchio, lo state utilizzando sul vostro computer, quindi in totale privacy. Qui state comunque utilizzando lo strumento online. Andiamo a vedere un po' di informazioni. Come ci dice qua, puoi caricare anche una sola immagine, però se carichi più immagini è molto meglio. Inoltre ci dice che il volto nell'immagine di riferimento che carichiamo deve occupare la maggior parte dell'immagine. Ok, cercate di inserire immagini dove si vede bene il volto. Qui ci dice, è una cosa veramente importantissima perché sennò vi dà errore, fate molta attenzione. Quando andate ad inserire il prompt, infatti lo vediamo dopo, dovete ricordarvi di inserire la parola chiave. La parola chiave è questa, img, image. Ad esempio, volete scrivere uomo, quindi scrivete man e poi subito dopo la parola chiave, img. Questo è lo spazio per inserire le nostre immagini di riferimento. Qui è dove dobbiamo inserire il prompt. Questi sono tutti gli stili. Poi qui ci sono le impostazioni avanzate. Chiaramente c'è il prompt negativo. Qui abbiamo il numero di passaggi del campione, praticamente più alta questa impostazione, più l'immagine generata sarà fedele all'immagine di riferimento. Chiaramente la generazione però sarà più lenta. Mentre se l'abbassiamo sarà più veloce nella generazione, ma meno fedele all'immagine di riferimento. Qui sotto c'è lo stile, più sarà alta la percentuale, perché vedete che è in percentuale, più darai forza allo stile che hai scelto. Qui possiamo scegliere quante immagini vogliamo generare fino a un massimo di 4 alla volta. Poi qui c'è la scala, eccetera, eccetera. Ok, facciamo una prova. Inserisco queste due immagini, generate sempre con l'intelligenza artificiale. Pensiamo di voler creare una modella AI. Quindi devo generare più immagini della stessa persona in diversi contesti e situazioni. Per questo primo esempio metto questo prompt. La foto, il ritratto di una donna ad un colloquio di lavoro elegante, viso perfetto, pelle naturale, ombre nette. Lo stile lascio fotografico. Nelle impostazioni avanzate lascio tutto così. Clicco su Submit. Ecco che ha finito. Bellissimo risultato. Molto, molto bene. Guardate, anche le ombre sono molto nette, no? Proprio come gli ho detto io nel prompt. Mi sembra molto realistica l'immagine. Quindi la vado a scaricare. La possiamo scaricare con quest'icona qui sopra. Ok, ora che cosa voglio fare? Vado a cancellare questo prompt ed inserisco quest'altro prompt, che è praticamente lo stesso di prima, però ho inserito un full body, una foto a corpo intero. Vediamo che tipo di risultato ci dà. Ok, in questo caso ci prende il taglio come nell'immagine di riferimento, vedete? Il risultato mi sembra buono, però qui forse non genera in modo perfetto gli occhi. Però la qualità è veramente altissima ed è molto fedele all'immagine di riferimento. Ok, ho inserito questo prompt più semplice, quindi foto di una donna mentre nuota in piscina. Vediamo se riesci ad essere sempre fedele all'immagine di riferimento. In questo modo noi possiamo ad esempio creare una modella AI ed inserire foto mentre è in piscina, mentre è in ufficio. Ecco i risultati. Molto, ma molto bella questa qui. Ok, forse qui c'è un piccolissimo errore nella generazione degli occhi, cioè non tanto nella generazione degli occhi, ma proprio nel colore. Ho ingrandito un pochino l'immagine di riferimento e diciamo che non è un errore di questo strumento, ma proprio nella generazione dell'immagine. Perché come vi ho detto prima io ho questa immagine qui di riferimento, quindi questa qua che ho messo qua, l'ho comunque create con l'intelligenza artificiale. Quindi qui in effetti il colore è molto chiaro e magari ci può essere qualche piccolissimo errore. In questo caso aggiungo la parola motociclista, quindi vediamo se ci crea una motociclista. Non è che mi fa impazzire questo risultato, però ci si può lavorare. Ok, ho cambiato l'immagine di riferimento, questa volta però ho messo due immagini diverse, quindi questa ragazza e quest'altra ragazza. Vi ricordo, lo dico sempre, le avete sicuramente già viste in altri video, queste sono state generate con l'intelligenza artificiale. Ok, qui metto foto di una ragazza in spiaggia. Guardate qui ragazzi, non ho inserito la parola chiave, vi faccio vedere che cosa succede. Se andiamo a cliccare su submit, ci dà l'errore, quindi qui dobbiamo inserire vicino a girl, img. Inserita la parola chiave, ora l'errore non ce lo darà più. Ottimo risultato ragazzi, infatti se vedete ha miscelato, ha mixato le due immagini. Vedete come ha preso i lineamenti, ad esempio gli occhi di questa ragazza, e le ha mixati praticamente con i colori e anche i lineamenti di questa ragazza. Il risultato è veramente fantastico. Ora facciamo così, lasciamo queste due immagini di riferimento e faccio foto di un uomo sulla spiaggia. Vedete che anche in questo caso ci sono sia i lineamenti che i colori di entrambe le ragazze nell'immagine di riferimento. Anche la qualità dell'immagine è veramente altissima, è molto ma molto realistica. Ok, ho lasciato solo questa immagine di riferimento e vado a mettere questo prompt, quindi foto di una donna con una maglietta bianca con la scritta nera Felix. Vediamo che tipo di risultato ci dà, ma più che altro si riesce a generarci il testo. Mi sono dimenticato di mettere la parola chiave. L'immagine è eccezionale, cioè nel senso ha seguito il prompt a parte la scritta Felix. Mi piace tanto l'immagine che ha generato, è identica all'immagine di riferimento. Vediamo un po', cambiando qualche impostazione, vediamo che succede. Andiamo ad aumentare un pochino questa impostazione, la mettiamo a 70. E andiamo ad aumentare anche lo stile. Cambio anche il prompt, quindi metto una donna a corpo intero, full body. Ecco il risultato. In questo caso è riuscito a scrivermi Felix, quindi la fedeltà dell'immagine per quanto riguarda il volto rispetto all'immagine di riferimento è altissima. Ha rispettato benissimo il prompt, quindi è riuscito a generarmi la maglietta bianca con la scritta nera Felix. Questo perché? Perché abbiamo aggiunto un full body e anche perché abbiamo aumentato queste impostazioni. Nella seconda immagine non è riuscito bene a scrivermi la parola Felix. Facciamo un'ultima prova. Lascio sempre questa immagine, però che cosa vado a fare? Vado a cambiare il colore dei capelli. Inserisco quest'altro prompt, quindi una donna con capelli rossi e una camicia rossa. In via. Allora, in questa prima immagine, capelli rossi perfetti. Il viso è uguale all'immagine di riferimento, però mi ha messo una maglietta sopra rossa, quindi non è una camicia. In questo caso, invece, è una camicia. Molto molto bene. Questa forse è la migliore. L'unica cosa, però, è che non ha rispettato in modo perfetto il full body. Ho messo foto di una donna amica di Batman, ok? Quindi vediamo che tipo di risultato ci dà. Nello stile ho messo cinematografico. Vedete, ragazzi, a parte la qualità che è altissima, in questo modo riuscite ad avere lo stesso identico volto dell'immagine di riferimento. La migliore è questa qua, secondo me. Sto pensando di organizzare una diretta in cui potrete farmi domande su questi strumenti. Se siete interessati, lasciate un commento qui sotto. Se riceverò un numero sufficiente di messaggi, allora organizzerò la live. Come avete visto, è molto semplice utilizzare questo strumento. I risultati sono di altissima qualità. Chiaro che dovete lavorare sul prompt e sui settaggi per ottenere dei risultati perfetti. Considerate che è uno strumento gratuito, è uno strumento open source, quindi sicuramente migliorerà ancora di più col passare del tempo. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo strumento. Se vuoi rimanere sempre aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina e lasciarmi un like. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!